No, non l'ho scaricata, tutto sommato penso che sia anche andata bene così, perché c'è un tale assembramento anche lì sull'app Immuni che rischia di mandare in cortocircuito tutto il sistema. Io vorrei tornare ore possibile su concetti già espressi che vorrei però chiarire, perché c'è il rischio, ho avuto degli amici che hanno scaricato l'app Immuni e si sono trovati diciamo così coinvolti in circuiti non particolarmente sensibili dal punto di vista del dato epidemiologico e quindi un po' disorientati rispetto alle norme che dovevano seguire, che avrebbero dovuto seguire. Loro hanno ricevuto la notifica e poi dopo non hanno saputo come dovevano muoversi, nessuno ha dato indicazioni in questo senso? Esatto, e questo per 8 milioni di persone coinvolte, quando dovessero essere 60 voglio vedere come sarebbe possibile, però ripeto non è questo secondo me il punto, qui bisogna cercare di fare chiarezza, perché a me fanno abbastanza sorridere tutti questi ragionamenti, questi approfondimenti eccetera, che non coinvolgono soltanto medici, epidemiologi, virologi, infettivologi, il che sarebbe comprensibile soprattutto se tutti parlassero la stessa lingua, cosa che invece non è capitata da marzo a questa parte, abbiamo avuto 100 scuole di pensiero e il disorientamento generale anche per il cittadino utente è stato massimo. Ma qui che tutti, anche persone che con la medicina non c'entrano a niente, iniziano a fare le proprie valutazioni in ordine ai contagi, alla percentuale di decessi, ricopri delle repie intensive, i tamponi, i test seriologici piuttosto che quelli molecolari, fa abbastanza sorridere come quando ci sono i campioni del mondo di calcio che tutti diventano allenatori e vorrebbero suggerire all'allenatore quali giocatori mettere in campo. Allora noi, almeno per quello che mi riguarda e per quello che riguarda anche il mondo dell'informazione generalista, quindi l'informazione diffusa, dovremmo occuparci delle competenze dello Stato. Quali sono le competenze dello Stato? Primo, certamente quella di far funzionare la sanità e Fratelli d'Italia, il centro-destra in genere è assolutamente, e si è dimostrato già in passato, disponibile a fare la sua parte e ringrazia, non finirà mai di farlo, medici, infermieri, tutti i coloro che sono stati in prima linea e purtroppo hanno anche pagato un prezzo salatissimo a causa anche di alcuni ritardi che ci sono stati e comunque soprattutto a causa della violenza di questa pandemia. Quindi questo è un capitolo e su questo capitolo dobbiamo anche dire che il sistema sanitario nazionale si sta distinguendo nel mondo per essere sostanzialmente un buon sistema sanitario, poi che dobbiamo potenziare la medicina territoriale, la medicina di prossimità, che i medici di famiglia debbano essere rinforzati e responsabilizzati e tutto quello che abbiamo ascoltato non credo che ci piova. Benissimo, lavoriamo in questa direzione, ma la stessa cosa vale ovviamente per i nuovi reclutamenti, fermo restando che i medici e gli infermieri assunti non bisogna giocare con i numeri perché qui non bisogna fare propaganda quando c'è comunque una tragedia in corso. La propaganda no. Allora se i medici e gli infermieri assunti sono quelli che già lavoravano a tempo determinato e avevano quindi dei contratti temporanei e sono stati stabilizzati, significa che gli utenti, i pazienti non hanno un grande beneficio. E comunque un altro argomento sicuramente pertinente è quello che una grande concentrazione sul Covid-19 prevede un danno per tutte le patologie collaterali che non possono che essere rascurate proprio a causa delle ragioni che stavamo qui manifestando, su cui stiamo riflettendo. Che cosa deve fare lo Stato? È qui che non ci capiamo. Io è la terza volta che lo dico. Qualche mese fa ho iniziato a porre il problema delle scuole paritarie, unico in tutto il Parlamento italiano, ovviamente con Fratelli d'Italia, e alla fine siamo riusciti soltanto a dare l'elemosina alle scuole paritarie, ma non abbiamo capito che lo Stato deve intervenire sui luoghi dell'assembramento e sicuramente la scuola è un luogo dell'assembramento e avremmo dovuto coinvolgere tutte le scuole pubbliche paritarie per aumentare l'offerta e quindi disperdere gli studenti dentro la scuola. Non l'abbiamo saputo fare, questo Governo non lo ha voluto fare e adesso passiamo alla questione dei trasporti che ho citato nel primo intervento, ma nessuno risponde. Si continua a ignorare il fatto che il trasporto pubblico collettivo, in modo particolare, nelle grandi regioni con forti realtà industriali, forti realtà del terziario, sono particolarmente influenti e incidenti nell'aumento del contagio e quindi anche nell'aumento della malattia, sono nelle condizioni date. Io non vedo questa grande attenzione, anche nel mondo del giornalismo, ma perché non si va nelle stazioni metropolitane? A me arrivano, in quanto persona esposta da un punto di vista politico, decine e decine di foto, di filmati ogni giorno dalle stazioni ferroviarie, in particolare mi riferisco ai pendolari, che comunque continuano a fare il loro mestiere, dalle fermate degli autobus, gli autobus pieni, stracoglie a Milano, a Napoli, a Roma, in tutte le grandi città. Perché non si agisce? Qui che dobbiamo agire? Quelli sono dei focolai potenziali, è lì che deve agire il Governo. Non deve colpevolizzare i ragazzi che fanno la movita. Certo, la movita non va fatta, perché è un'altra ragione di assembramento, ma ci rendiamo conto della proporzione che passa tra un ristorante che ospita 30-40 persone la sera e a cui si vogliono imporre gli orari di chiusura e i mezzi di trasporto pubblico presi d'assalto letteralmente ogni ora del giorno da centinaia di migliaia di persone. La giro al sottosegretario Zappa. Qual è la risposta? È questo che deve fare lo Stato? Sì, la giro al sottosegretario Zappa.